Bentornati a speciale TG News, ospite Carmine Bucciarelli, candidato sindaco di Battipaglia, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, la notizia del momento a Battipaglia dal punto di vista politico è rappresentata dalle dimissioni dell'assessore Davide Bruno che la scorsa settimana ha sbattuto la porta dell'amministrazione comunale ed ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di assessore, ha parlato di mancanza di interlocuzione con la sindaca, di cantieri fermi, di progetti fermi al palo. Lei che idea si è fatto da candidato sindaco e quindi da osservatore privilegiato della situazione politica battipagliese? Un colpo di teatro, un colpo di teatro perché la vicenda che narra l'assessore Bruno, persona alla quale mi lega stima e affetto, è una vicenda ben nota ai battipagliesi. Il problema serio è che Davide Bruno è stato assessore per due anni in questa giunta e la sua presenza non è stata certa una presenza di secondo livello. Quando alla fine del mandato si fa una storia di quello che è l'impegno in una giunta e la si dipinge come una giunta che tutto sommato perde i soldi per i finanziamenti, una giunta che non fa vedere le carte del PIX all'assessore e insomma tutta quella serie di questioni sulle quali ovviamente io non scendo nel dettaglio se non per rappresentarle ai cittadini come elemento significativo di qual è il rapporto, di qual è stato il rapporto tra questa amministrazione e i suoi rappresentanti, gli stessi suoi rappresentanti, ebbene dicevo quando si fa la lista della spesa si narra di un fallimento politico che è innanzitutto un fallimento politico personale e poi un fallimento politico dell'intera amministrazione. Però ho detto colpo di teatro perché? Perché a me questa storia della difficoltà in una compagine amministrativa a affermare il proprio essere, il proprio io, le proprie idee, mi sa tanto di quella storia che spesso si sente come dire io sono io, faccio le cose, poi non me le fanno fare e me ne vado dall'altra parte. Ora se questo è, diciamolo ai cittadini, che continua questo balletto un poco anche strano, stucchevole tra i candidati di Visconti, i candidati di Santese, di fatto i battipagliesi sanno con certezza che questa amministrazione, di fatto i battipagliesi sanno che questa è un'amministrazione che nel rappresentare se stessa rappresenta una sequela di inadempienze e quindi una sequela di fatti concreti per i quali i battipagliesi sono assolutamente autorizzati e abilitati a cambiare registro. Il problema è capire se c'è la proposta alternativa e qui vengo al colpo di teatro di Davide Bruno. La proposta alternativa noi non la vediamo, o meglio, chi si illude di vedere la proposta alternativa, come dire, buttando sugli scudi oggi l'assessore Bruno fa un errore madornale perché rappresenta se stesso alla città come colui il quale vuole, come dire, fare il gruppone ma col gruppone non si governa, col gruppone le questioni che noi assistiamo, a cui abbiamo assistito in questa consigliatura, saranno poi le questioni che, ove mai dovesse essere prevalente quella maggioranza, assisteremo di qui a poco. Siccome noi riteniamo che alla sindaca francese non c'è alternativa rispetto alle questioni oggi in campo, speriamo che la gente sappia comprendere bene che, diciamo, tra le due proposte Viecchi rappresenta alla città una idea sostanzialmente diversa. Quindi secondo lei è un riposizionamento? Lascio l'amministrazione francese per andare dall'altra parte? Guardi, è solo un riposizionamento. Se tu consideri che l'ultimo bilancio comunale è stato votato da un consigliere comunale che non si candida più con l'amministrazione francese, la misura è colma, cioè i battipagliesi devono comprendere che questi balletti sono balletti a cui stanno assistendo da 20 anni. È venuto il momento di dire no, è venuto il momento di andare al di là dei balletti e soprattutto, se mi consentite, è venuto il momento di andare al di là di una classe politica che non perde occasione per dimostrare la sua debolezza, il suo legame esclusivo al potere. I consiglieri comunali, i cosiddetti consiglieri comunali forti, oggi cercano posizione, alcuni di questi non sanno ancora dove debbono posizionarsi, essi sono completamente disattenti rispetto al progetto teorico, a quello che un sottotitore un sindaco e un'amministrazione rappresenta. Noi vorremmo dare voce a una città diversa, vorremmo dare voce a una città che si interessa del progetto teorico, a una città che fa proprio una ipotesi di sviluppo della propria città e quindi su questo esprime un gradimento per una maggioranza o per un'altra. Di qui l'idea del civismo. Il nostro civismo, io dico sempre, non è un civismo che mortifica i partiti, non li vuole mortificare i partiti, ma è un civismo che tende a dire alla gente che è venuto il momento per fare chiarezza, è venuto il momento di qui a qualche tempo ad abituarci a considerare che i cosiddetti tavoli di centrodestra, centrosinistra o centro si danno battaglia su un'idea ma non sulle persone e siccome il fallimento è completo ora bisogna dare una spallata seria. Lei qualche giorno fa ha scritto una cosa significativa secondo me e che poi si pone in scemo quello che ha appena detto, verità significa considerare che tra i candidati di apparato, cioè quelli dei maggiori competitor, se così li possiamo definire, cioè Cecilia Francese, sindaco uscente Antonio Visconti, non vi sono differenze, essi hanno partecipato a pieno titolo alla gestione della cosa pubblica cittadina, la prima come sindaco e il secondo come presidente dell'Asi. Questo lo ribadisco in pieno, dovrebbero porre mente a questa cosa i cittadini di battipaglia, oggi non c'è nessuno che può tirarsi fuori da una gestione amministrativa che ha reso la città quella che è, una città nella quale ovviamente non tutto è da buttare, ma certamente voglio dire è una città che merita uno scatto diverso, soprattutto merita quell'attenzione che questa amministrazione doveva dare alla città di battipaglia all'indomani dello scioglimento del Consiglio Comunale per motivi di infiltrazione camorristica. L'avvicinamento della città, dei cittadini all'istituzione era un dovere primario di questa amministrazione, qui il fallimento completo di questa amministrazione e certamente voglio dire non rappresenta un elemento positivo questo, noi siamo arrivati ad oggi a 5 anni da quell'esperienza a dire le stesse cose, perché oggi non si può tirare dietro nessuno rispetto a questa gestione, perché se la sindaca ha il fardello della gestione amministrativa e non rappresenta oggi, non rende il conto ai cittadini di un periodo di gestione importante, dall'altra parte non certamente ci troviamo di fronte ad un'alternativa di sistema, ad un'alternativa concreta. L'ho detto prima, il gruppone, cioè la voglia di rappresentarsi come il candidato delle 13 liste, io ricordo la prima conferenza stampa di Visconti dove c'erano questi 13 simboli di partito, campeggiava anche il simbolo del PD, ora non si sa bene se questo simbolo c'è o non c'è, ma anche qui siamo nell'ambito delle cose avvolte dal mistero. Questi 13 simboli che dovrebbero rappresentare 13 liste di Visconti sono niente affatto che la voglia di rappresentarsi, una voglia muscolare, di rappresentarsi alla gente come chi è forte. Oggi i candidati più forti sono i più deboli sotto il profilo politico, i più deboli perché stanno facendo, stanno raccattando a destra e a manca consensi, stanno blandendo ora questo, ora quel consigliere comunale, addirittura questo o quel candidato. Io ho saputo di riunioni che fanno nottetempo con alcuni candidati ai quali promettono rotatorie, semafori, posti di lavoro, una cosa inenarrabile che veramente dovrebbe far vergognare chi la fa. Perché noi possiamo fare politica, possiamo dire mille cose, possiamo anche intrattenere con gli avversari un rapporto di contrasto, ma non può questo andare al di là della vicenda strettamente politica. Quando si va da un candidato e gli si offre un posto di lavoro e sono successi, ipotesi di questa natura sono ormai all'ordine del giorno, gli si va ad offrire un posto di lavoro. Ebbene, voi cittadini di Battipaglia dovete immaginare che costoro i posti di lavoro li offrono solo a coloro i quali firmano la candidatura. È evidente che tutto questo non può andare bene. Noi, ripeto, vorremmo dare voce all'altra Battipaglia, a quella a cui non offriamo i posti di lavoro, a quella a cui rappresentiamo le esigenze della città, che sono esigenze importanti e che riguardano anche il lavoro, ma sono esigenze di vivibilità, sono esigenze di tutela ambientale, sono esigenze di un apparato produttivo che ormai non esiste più. E su questo Visconti non può dirsi fuori dalla vicenda amministrativa. Visconti gestisce l'Asi da quattro anni, è praticamente colui il quale è presidente di un ente importantissimo per il futuro di Battipaglia. Le vicende collegate all'Asi, le vicende collegate al rapporto estremamente conflittuale tra Comune di Battipaglia e Asi, rappresentano un punto nero di ogni programma elettorale. Il nostro sarà affrontato nei modi e nelle forme che riterremo opportuno, ma certamente costui non può dirsi fuori della gestione amministrativa della città di Battipaglia. In una parola, cari concittadini, francese e Visconti stanno sullo stesso piano. Voi dovete solo scegliere l'alternativa, perché entrambi rappresentano quello che va superato in questa città. Non conosciamo ancora la data precisa delle elezioni, però è certo che agosto sarà il mese in cui verranno chiuse tutte le candidature e tutte le liste. Lei ha tre liste a suo sostegno, Battipaglia e Città del Sele, prima Battipaglia e Battipaglia sostenibile. Come diceva lei, rappresentano l'altra Battipaglia, quindi chi sono questi rappresentanti dell'altra Battipaglia? Noi abbiamo un'esigenza, che è quella di rappresentare alla gente che la tutela ambientale è primaria. Quindi il problema della tutela ambientale sarà un filo che percorrerà tutto il programma, dal PUC alla questione dell'Asi e alla questione del welfare. È chiaro che avere una lista che si chiama Battipaglia sostenibile, significa porre l'attenzione sulla sostenibilità. Ora, questa lista avrà sulle spalle il programma, sarà un programma di grande attenzione che noi pubblicheremo sul mio sito ed è una lista che si incaricherà di dire ai cittadini di Battipaglia che queste sono le cose che vogliamo fare, queste sono le esigenze di questa città, vorremmo vivere in una città che non costringe più nessuno ad andare via, ma dà la possibilità ai suoi figli, ai giovani in particolar modo, di andare avanti e di avere un futuro in questa città. Sarà una lista di giovani, prevalentemente di giovani. Ho sentito qualcuno che, copiando una nostra espressione, una mia espressione, oggi propone un patto generazionale. Non è un problema di primogenitura, quel patto generazionale non ci riguarda, non c'è nessun modo per fare un patto generazionale sui voti, il patto generazionale si fa sulle idee, i voti sono altra questione. Se noi vogliamo ancora una volta rappresentare ai cittadini di Battipaglia una realtà che è una realtà falsa, offriamo pure un patto generazionale sui voti, noi dobbiamo offrire un patto generazionale sulle idee. Quindi saranno giovani, si incaricheranno di portare avanti il programma, si incaricheranno di dire alla gente che vorremmo vivere in questo tipo di città, una città che ha e sceglie il suo futuro e soprattutto una città che sulla questione dell'apparato produttivo e sulla questione dell'emergenza ambientale fa un elemento importante di attività. Sui candidati noi vorremmo dare veramente più spazio al Consiglio Comunale, lo abbiamo detto poc'anzi anche fuori dall'intervista. La legge sui sindaci va, secondo il mio giudizio modesto, ripensata. Ripensata soprattutto laddove si disegna il rapporto tra maggioranza e sindaco. La nostra sindaca fa vanto alla sua amministrazione di essere stata cinque anni in carica. Io personalmente non lo farei questo vanto, per un motivo molto semplice, ha cambiato quattro maggioranze diverse e tutte e quattro sempre perché una parte di essa era andata via, bisognava mettere un altro assessore, poi bisognava mettere un altro assessore, poi bisognava mettere Bruno che dice di stare o di essere stato in amministrazione come il consigliere del PD, se ne ricorda dopo due anni, perché bisognava togliere coloro i quali erano stati messi prima, mi riferisco alle persone sostituite in quell'occasione. Non ha senso, questa è una vicenda che non ha senso. Noi dobbiamo dire alla città, siamo una maggioranza, vorremmo portare avanti questo comune per il periodo che la legge dice di portarlo avanti, sono cinque anni, non vogliamo cambiare maggioranza, chi è opposizione nel Consiglio Comunale faccia l'opposizione, chi è governo faccia il governo, ma questo è. Se continuiamo nei balletti probabilmente anche il futuro di questa città sarà destinato ai balletti e questo è gravissimo, questa classe politica non può più farlo. Non è un problema che riguarda me, è un problema che riguarda la città. Se la città è ancora inchiodata alle vicende personali di questo o di quel candidato, non sindaco ma al Consiglio Comunale, di questa o di quella vicenda, vediamo la formazione delle liste è evidente in questo senso, vediamo come dire, ripescaggi dell'ultima ora, cose assolutamente inimmaginabili qualche mese fa, eppure ciò accade. Perché ciò accade? Perché ai cittadini nessuno rappresenta un'idea di città, né la francese, né Visconti, né gli altri. Noi vogliamo rappresentare un'idea di città e vorremmo che su questa idea di città ci fosse confronto. Io malgrado dico, vorrei un confronto con questi candidati sindaci, nessuno viene a confrontarsi con me. Lo lanciamo qui? Lo abbiamo lanciato mille volte, ma questi candidati sindaci non si siedono e fanno con me un ragionamento di confronto, nessuno vuole avere l'idea di avere la verità, ma questa idea di città che si va in giro nei salottini buoni o in mezzo alla strada facendo i comizi truccati a conferenze stampa. Ma vogliamo dirlo alla gente col mezzo che la pandemia ci mette a disposizione, che purtroppo è un mezzo ancora digitale. Venite, facciamo un confronto di idee e rappresentiamoci alla gente per quello che siamo. La gente ci conosce, conosce le nostre forze elettorali, facciamo scegliere alla gente. Una volta, abbiate il coraggio di far scegliere alla gente. Siamo in chiusura, però voglio fare un'ultima domanda rispetto alla campagna elettorale che è già in corso. Lei sta girando molto sul territorio, che cosa le dicono i cittadini? Quali sono le problematiche, le criticità che maggiormente avvertono? La maggiore criticità è quella di essere distanti da una classe politica che ha detto sempre bugie. Questa è la criticità più vera che io incontro quando devo chiedere il voto alle persone. Le persone sono assolutamente ossessionate dai propri bisogni, ma è anche giusto. Un figlio che non riesce a trovare un posto di lavoro e quindi non rende soddisfazione al padre che casomai l'ha fatto studiare. Un disabile che vive in casa e che non riesce a trovare una forma di tutela, di assistenza concreta. Questi sono solo due esempi di bisogni che in questa città si incontrano. Ai bisogni si contrappone la bugia, perché la bugia è quella dei politici, i quali vanno facendo il giretto per le periferie, un giretto nel quale sostanzialmente dicono tutti le stesse cose. E cioè che la periferia deve essere maggiormente, come dire, unita al centro, una serie di valutazioni che spesso sono anche valutazioni buone, ma sono valutazioni ovvie. Questa è una città che vive su tre centri, che sono periferici per modo di dire, ma sono tre centri autonomi. Noi vorremmo che i cittadini di Taverna fossero cittadini della città di Battipaglia e non cittadini di Taverna, lo abbiamo detto più volte. Allora noi per i quartieri non abbiamo ricette, abbiamo un modo di rappresentare l'idea della città anche a Costoro, a quelli che vivono a Taverna, a quelli che vivono a Belvedere, a quelli che vivono a Sant'Anna. Questi saranno i temi degli ultimi 30 giorni. I bisogni della gente. Sui bisogni della gente vi è un'amministrazione che li ha saputi tenere da conto, punto di domanda, sicuramente no. Chi si incarica di essere l'alternativa a questa amministrazione? Un gruppone di potere che riesce solo a contrabbandare la filiera politica, che serve solo a destinare il futuro della città di Battipaglia, lontano da Battipaglia, perché su questo gruppone ha immaginato già una storia per l'ASI, una storia per la retroportualità, per le zone ZES, per quello che verrà come apporto nazionale per il Recovery Fund. Un gruppone che non ha tra il suo obiettivo quello di far scegliere ai cittadini il destino di Battipaglia. Poi ci siamo noi che diciamo che il destino della città va scelto a Battipaglia, in questa zona. Vogliamo iniziare a sceglierlo dalla tutela ambientale, dalla battaglia sutterna, dalla battaglia per il lavoro, dalla battaglia per un consorzio ASI diverso e per un rapporto tra il consorzio ASI e il comune di Battipaglia diverso. Questi saranno i temi degli ultimi 30 giorni. Su questi temi i nostri candidati, i miei candidati scenderanno in campo per chiedere il voto e soprattutto per rappresentare alla gente che stanno ricevendo dai grupponi di potere presunti forti solo un mare di bugie. Grazie Carmine Bucciarelli. Grazie a te, grazie a voi per l'attenzione e per la disponibilità. Buon proseguimento di campagna elettorale che ho detto anche con la sindaca sarà lunghissima. Purtroppo, siamo a agosto e la facciamo anche a mare questa campagna elettorale. E con temperature africane. E con temperature altissime, altissime. Ma noi non ci spaventiamo, noi siamo, come dice qualche mio amico, siamo volpe di altri destini. Quindi riusciamo a farla anche ad agosto la campagna elettorale. Io ringrazio tutti voi dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Speciale TG News.